mi profferse la sua cameretta credetti in principio che scherzasse ma quando mi assicurò che aveva lì veramente una cameretta per sé non volle accettare e andai con lui nel dormitorio dell'asilo non me ne pento perché al disagio e al ribrezzo che provai in quell'orrido luogo ebbi due compensi primo quello di trovare il posto che occupo al presente o meglio l'occasione di entrare come operatore nella grande casa di cinematografia la cosmograph secondo quello di conoscere l'uomo che per me è rimasto il simbolo della sorte miserabile a cui il continuo progresso condanna l'umanità ecco prima l'uomo me lo mostrò simone pau la mattina appresso quando ci levammo dalla branda non descriverò quello stanzone del dormitorio appestato da tanti fiati nella squallida luce dell'alba né l'esodo di quei ricoverati che scendevano irti e rabbuffati dal sonno nei lunghi camici bianchi con le pantofole di tela ai piedi e la tessera in mano giù allo spogliatoio per ritirare a turno i loro panni uno era in mezzo a questi teneva stretto sotto il braccio un violino chiuso nella fodera di panno verde logora sudicia stinta e se n'andava inarcocchiato e tenebroso come assorto a guardarsi i peli spioventi dalle foltissime sopracciglia aggrottate amico mio amico lo chiamò simone pau questi si fece avanti tenendo il capo chino e sospeso come se gli pesasse enormemente il naso rosso e carnuto e pareva dicesse avanzandosi fate largo fate largo vedete come la vita può ridurre il naso d'un uomo simone pau gli s'accostò amorevolmente con una mano gli sollevò il mento gli batte l'altra sulla spalla poi per rinfrancarlo ripete amico mio amico mio poi rivolgendosi a me serafino disse ti presento un grande artista gli hanno appiccicato un nomignolo schifoso ma non importa è un grande artista ammiralo qua col suo dio sotto il braccio potrebbe essere una scopa è un violino mi voltai a osservare l'effetto delle parole di simone pau sul viso dello sconosciuto impassibile e simone pau seguitò un violino per davvero e non lo lascia mai anche i custodi qua gli concedono di portarselo a letto a patto che non suoni di notte e non disturbi gli altri ricoverati ma non c'è pericolo cavalo fuori amico mio e mostralo a questo signore che ti saprà compatire quegli mi spiò prima con diffidenza poi a un nuovo invito di simone pau trasse dalla custodia il vecchio violino un violino veramente prezioso e lo mostrò come un monco vergognoso può mostrare il suo moncherino simone pau si rivolse a me e riprese vedi te lo mostra grande concessione di cui devi ringraziarlo suo padre molti anni or sono lo lasciò padrone a perugia di una tipografia ricca di macchine di caratteri e bene avviata di tu amico mio che ne facesti l'uomo rimase a guardare simone pau come se non avesse compreso la domanda simone pau gliela chiarì che ne facesti della tua tipografia quegli allora scattò in un gesto di non curanza sdegnosa la trascurò disse per spiegare quel gesto simone pau la trascurò fino al punto di ridursi all'astrico e allora col suo violino sotto il braccio se ne venne a roma ora non suona più da un pezzo perché crede di non poter più suonare dopo quanto gli è accaduto ma fino a qualche tempo fa suonava nelle osterie nelle osterie si beve e lui prima sonava e poi beveva sonava divinamente più divinamente sonava e più beveva così che spesso era costretto a mettere impegno il suo dio il suo violino e allora si presentava in qualche tipografia per trovare lavoro metteva insieme a poco a poco quel tanto che gli bisognava per spegnare il violino e ritornava a suonare nelle osterie ma senti che cosa gli capitò una volta per cui capisci gli si è un po' alterata la non diciamo ragione per carità diciamo concezione della vita insacca insacca amico mio il tuo strumento so che ti fa male se io lo dico mentre tu hai il violino scoperto l'uomo accennò più volte di sì gravemente col capo arruffato e rinfoderò il violino gli capitò questo seguitò Simone Pau si presenta in una grande officina tipografica nella quale è Proto uno che da ragazzotto lavorava nella sua tipografia a Perugia non c'è posto mi dispiace gli dice costui e l'amico mio fa per andarsene avvilito quando si sente richiamare aspetta dice se ti adatti ci sarebbe da fare un servizio non sarebbe per te ma se tu hai bisogno il mio amico si stringe nelle spalle e segue il Proto è introdotto in un reparto speciale silenzioso e lì il Proto gli mostra una macchina nuova un pachiderma a piatto nero basso una bestiaccia mostruosa che mangia piombo e cacalibri è una monotype perfezionata senza complicazione d'assi di ruote di pulegge senza il ballo strepitoso della motrice ti dico una vera bestia un pachiderma che si ruguma quieto quieto il suo lungo nastro di carta traforata fa tutto da sé dice il Proto al mio amico tu non hai che a darle da mangiare di tanto in tanto i suoi panni di piombo e starla a guardare il mio amico si sente cascare il fiato e le braccia ridursi a un tale ufficio un uomo un artista peggio d'un mozzo di stiva stare a guardia di quella bestiaccia nera che fa tutto da sé e che non vuol da lui altro servizio che d'aver messo in bocca di tanto in tanto il suo cibo quei panni di piombo avvilito mortificato oppresso di vergogna e avvelenato di bile il mio amico dura una settimana in quella servitù indegna e porgendo alla bestia quei panni di piombo sogna la sua liberazione il suo violino la sua arte giura e promette di non ritornare più a suonare nelle osterie dov'è forte veramente forte per lui tentazione di bere e vuol trovare altri luoghi più degni per l'esercizio della sua arte e per il culto della sua divinità sì signori appena spegnato il violino legge negli avvisi d'un giornale tra le offerte d'impiego quella d'un cinematografo invia tale numero tale che ha bisogno d'un violino ed un clarinetto per la sua orchestrina esterna subito il mio amico accorre si presenta felice esultante col suo violino sotto il braccio ebbene si trova davanti un'altra macchina un pianoforte automatico un cosiddetto piano melodico gli dicono tu col tuo violino devi accompagnare questo strumento capisci? un violino nelle mani di un uomo accompagnare un rotolo di carta traforata introdotto nella pancia di quell'altra macchina l'anima che muove e guida le mani di quest'uomo e che or s'abbandona nelle cavate dell'archetto or freme nelle dita che premono le corde costretta a seguire il registro di quello strumento automatico il mio amico diede in tali escandescenze che dovettero accorrere le guardie e fu tratto in arresto e condannato per oltraggio alla forza pubblica a 15 giorni di carcere ne è uscito come lo vedi beve e non suona più a 15 giorni di carcere grazie a tutti